Allora, eccoci arrivati al terzo ed ultimo nostro appuntamento di preparazione al prossimo test online che faremo venerdì prossimo. Come al solito partiamo da un'immagine, l'immagine della sede fisica dell'organo costituzionale di cui parleremo oggi, che è la Corte Costituzionale. Ora, la sede fisica è costituita da questo palazzo che sto indicando con la mia freccetta, che si trova alla destra di questa immagine, che si chiama il Palazzo della Consulta. Riconoscerete di fronte la sede del Presidente della Repubblica, che è il Palazzo del Quirinale. Quindi praticamente sono dei dirimpettai, per così dire, la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica, che entrambi si vedono, come dire, incaricati dalla nostra Carta Costituzionale, del compito di tutelarla e di proteggerla da eventuali distorsioni nella sua applicazione che possono essere fatti dagli altri organi dello Stato. Chiaramente con modi e forme completamente diverse. Prima di andare avanti, ricordiamo, sapete che io ci tengo, ricordiamo quali sono i nomi dei palazzi degli altri poteri dello Stato. Il Palazzo Chigi è la sede del Governo, quindi del Potere Esecutivo, mentre il Palazzo Madama è la sede del Senato e il Palazzo Montecitorio è la sede della Camera dei Deputati. E' entrambi due rami del Parlamento, perché abbiamo un Parlamento bicamerale. Adesso passiamo ad analizzare la Corte Costituzionale e prima dobbiamo fare delle considerazioni introduttive. A differenza degli altri organi costituzionali del nostro Paese, che hanno una storia, come dire, istituzionale pregressa alla nascita della nostra stessa Repubblica Italiana e quindi che facevano parte comunque dello Stato Italiano o delle forme che l'hanno preceduto, la Corte Costituzionale è l'organo più giovane nel nostro Paese. Perché? Perché è stato creato, tra virgolette, inventato dalla nostra Assemblea Costituente, che è voluto creare un organismo particolare che non è né politico né giurisdizionale, eccetera, ma che ha svolgito una funzione di garanzia particolarissima. Quindi nasce nel 1948, ma bisogna aspettare otto anni prima che inizi a funzionare realmente, quindi nel 1956. Quindi, come sapete, non può reggere il confronto né con le Camere del Parlamento, né con il Governo, néppure con il Presidente della Repubblica come Capo dello Stato, perché ci si erano precedentemente da ben prima. Ora, è un organo giurisdizionale particolare. Perché? Perché è un giudice, ma non appartiene all'organo giudiziario. Perché? È un organo di giustizia, ma non in senso stretto di giurisdizione, perché non dice qual è il diritto, ma piuttosto lo giudica. E' quindi un organismo che lo possiamo definire come professionale, formato da persone che hanno competenze particolari, il cui compito è quello di giudicare la costituzionalità delle leggi e degli atti a venti forza di legge, ma non solo. Ma comunque devono giudicare sul corretto funzionamento dell'applicazione della Carta Costituzionale e soprattutto di quella che è l'unità di misura fondamentale del nostro sistema giuridico, che è la legge. La legge, se è contraria alla Costituzione, può essere annullata dalla Corte Costituzionale. Quindi questo è il compito fondamentale e principale che ha, ma ne ha anche degli altri che adesso vedremo fra poco. Quindi, vediamo un pochino, come al solito, partendo direttamente dal dettato costituzionale. In base all'articolo 134 della nostra Costituzione, la Corte Costituzionale, primo punto, giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti a venti forza di legge dello Stato e della Regione. Quindi, se lo Stato o le Regioni, quindi anche le leggi regionali, e nel nostro caso le leggi della provincia autonoma di Trento e di Bozzano, nasce una controversia sul contenuto di queste leggi, perché o il potere centrale o il potere locale, quindi regionale, ritengono che la legge sia lesiva di principi contenuti nella Costituzione, si possono rivolgere alla Corte Costituzionale che giudicherà se la legge contestata, nazionale o locale che sia, sia conforme o meno alla Carta Costituzionale. E nel caso in cui ritengano che non sia conforme, come già vi ho detto prima, hanno il potere di cancellarla, di annullarla. Inoltre, questo è il potere principale, ma ce ne sono degli altri molto importanti e delicatissimi. Laddove dovessero sorgere dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, oppure fra lo Stato e le Regioni, oppure fra le Regioni stesse, chi è chiamato a risolvere questo conflitto è la Corte Costituzionale e chiaramente lo farà in base a quello che stabilisce la Costituzione e al modo con cui questa viene interpretata e di conseguenza applicata dalla Corte Costituzionale stessa. Ma quando è che si può procedere, si può arrivare ad un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato? Quindi che significa conflitto fra i poteri dello Stato? Per esempio, un conflitto tra un ministro e il Presidente della Repubblica, oppure fra il Parlamento e il Governo, e via dicendo. Ora, che cosa succede? Questi conflitti di attribuzione possono essere di due tipi, positivi o negativi. Sono positivi se due poteri litigano ritenendosi competenti ad occuparsi di una determinata problematica e quindi, per esempio, a legiferare o a decidere qual è il contenuto, la decisione che deve essere adottata su un determinato problema X. Oppure il conflitto può essere negativo quando due litigano perché dicono tocca a te e non a me o viceversa. Quindi è positivo se tutte e due vogliono fare quella cosa e non è possibile perché solo uno la può fare. Negativo se nessuno dei due la vuole fare dicendo che è competenza dell'altro. In questo caso interviene la Corte e dice di chi è la competenza. Terzo potere importante. Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. E questo l'avete già fatto, l'abbiamo visto in passato. Il Presidente gode della immunità con l'Istituto della Controfirma Ministeriale, però nel momento in cui dovesse commettere il reato di alto tradimento e attentato alla Carta Costituzionale, regale inviato a giudizio dal Parlamento e in Seduta Comune giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da quei famosi 16 giudici popolari. Inoltre, l'ultimo potere spetta alla Corte è giudicare l'ammissibilità dei referendum. Se vi ricordate, i referendum sono abrogativi e possono essere tenuti non su tutte le materie, ma su alcune. Alcune delle materie generali legislative sono esclusa la possibilità. Ricordate, trattati internazionali, ratifica degli stessi, leggi di bilancio e via discorrendo. Quindi la Corte fa questo tipo di esame. Andiamo alla composizione. L'articolo 135,1 della Costituzione afferma che la Corte Costituzionale è composta da 15 giudici. Ora, questi 15 giudici vengono nominati da tre soggetti diversi per un terzo, un terzo e un terzo. Quindi ognuna ne legge 5, ne nomina 5, per meglio dire. Quindi 5 vengono nominati dal Capo dello Stato, 5 dal Parlamento e in Seduta Comune e 5 dalle superiore magistrature ordinarie e amministrative. Quindi il terzo dei giudici nominati dal Capo dello Stato è evidente, così come nel Parlamento e in Seduta Comune bisogna capire chi sono queste supreme magistrature. Sono gli ultimi grado, per così dire, i gradi supremi dei diversi organi della giustizia, dei settori della giustizia italiana. Quindi civile, penale e contabile. Penale, civile, contabile e amministrativo e sono appunto la Corte di Cassazione e il terzo grado di giudizio, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti che sono organi di appello nella giustizia contabile e amministrativa. Si voleva dare molta stabilità alla Corte Costituzionale, quindi non farne un organo leggero e bellerino, ma piuttosto ben piantato nel tessuto istituzionale del nostro Paese. Quindi il mandato dura la bellezza di nove anni. Non è chiaramente rilegibile, perché sennò diventerebbe una sorta di nomina a vita e né tanto meno è possibile la prorogazio. Cosa vuol dire la prorogazio? Che qualora scadono i nove anni, se non viene nominato il sostituto, il posto rimane vacante. Non vengono prorogati i poteri del giudice precedentemente nominato. Quindi si possono verificare delle situazioni in cui magari non ci sia un accordo politico tra le forze parlamentari e non si riescano a nominare perché ci vuole la maggioranza qualificata i cinque giudici, la Corte rimane, come dire, monca in attesa della nomina da parte del Parlamento. Nove anni. Nove anni è il più lungo mandato di un organo costituzionale. Ricordiamo quali sono le altre durate temporali. Parlamento, legislatura, cinque anni. Governo, se dura per un'intera legislatura, al massimo cinque anni. Presidente della Repubblica, sette anni. Corte costituzionale e chiaramente i giudici che ne fanno parte, nove anni. Il mandato, come ho già detto, non può essere rinnovato. La Corte elegge fra i suoi componenti liberamente il Presidente che rimane in carica per tre anni e può essere, in questo caso, rieletto. Ora, secondo una prassi costituzionale, fino a qualche anno fa, vi era, appunto, una prassi costituzionale, quindi una consuetudine, non una norma scritta, per cui il Presidente veniva eletto in genere tra i giudici che stavano concludendo il mandato, quindi quello che era più anziano per carica, per dare la possibilità, quindi, di fare, come dire, una tornazione e permettere a tutti di diventare giudici o Presidenti della Corte Costituzionale. Nella cosiddetta Seconda Repubblica questa prassi è stata abbandonata, oggi si seguono altre logiche, quindi non è detto che chi venga eletto il Presidente è più anziano in carica, per esempio, nel caso attuale il Presidente della Corte Costituzionale è una donna e la giudice Marta Cartabia ed è considerata appunto la quarta carica dello Stato. Quali sono le prime tre cariche? Primo, Presidente della Repubblica, due, Presidente del Senato, tre, Presidente della Camera, quattro, Presidente della Corte Costituzionale. Queste sono le quattro cariche istituzionali dello Stato italiano. I membri della Corte godono di un'immunità politica e penale simile a quella prevista dall'articolo 68 per i parlamentari, quindi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e voti dati nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni e questo chiaramente è più che è logico e sacrosanto. qui vedete il collegio dei giudici dove potete vedere quando sono stati nominati e soprattutto quello che è il palmarès diciamo così di ognuno di questi. Qui sono tutti i giudici in carica tranne il primo che è Giorgio Rattanzi che ha concluso il suo mandato come vedete 9 dicembre 10 quindi il 9 dicembre del 19 ha concluso i suoi nove anni e questi sono i nomi dei giudici che a tuttora fanno parte e li vedrete da voi al centro vedete Marta Cartabia che è appunto stata nominata presidente della corte costituzionale e è la prima volta che una donna assume questa carica come vedete ci sono altre altre donne professore di diritto del lavoro Silvana Sciarra Dario De Pretis professore ordinario professore di diritto amministrativo professori e via discorrendo ora se vedete come dire la qualifica professionale potete capire quali sono diciamo i settori da cui provengono questi giudici quindi per esempio guardiamo Carosi è un giudice contabile perché viene dalla corte dei conti la cartabia è una professoressa che viene dall'università Morelli è un giudice di cassazione Coraggio è un giudice un ex giudice del consiglio di stato poi tutti questi qui sono tutti professori universitari poi professore 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 e amoroso è un giudice di corte di cassazione e se fate il conto sono 13 anzi non 12 ne mancavano due che sono stati nominati successivamente un giudice il giudice Petitti e il professore Antonini che fanno parte attualmente della corte costituzionale allora vediamo un po' quindi come abbiamo detto lo ripetiamo la corte costituzionale è competente a giudicare delle controverse relative alla legittimità costituzionale eccetera eccetera non me ne ridungo perché questa slide è un po' un doppione quindi svolge possiamo individuare una funzione di tipo garantista cioè che garantisce la legittimità e il pieno rispetto della costituzione e se per caso si va oltre ha il potere di intervenire nei modi che vedremo alla fine e poi ha una funzione di arbitro nel momento in cui sorgono dei conflitti per i poteri dello Stato che questo è un evento raro ma che comunque si può verificare in passato è accaduto vediamo un pochino adesso concretamente le leggi come si esprime il giudizio sulla legge da parte della corte costituzionale le possibilità sono due o in via diretta o in via incidentale in via diretta il governo fa ricorso alla corte contro una legge regionale oppure la regione fa ricorso alla corte costituzionale contro una legge dello Stato italiano e quindi loro sono gli unici che si possono rivolgere direttamente alla corte mentre in via incidentale chiunque qualsiasi cittadino si può rivolgere può chiedere di rivolgersi alla corte costituzionale affinché esprima un giudizio di costituzionalità su di una legge se si è parte di un processo ora se si è parte di un processo l'imputato può sollevare oppure lo stesso pubblico ministero e altre parti del processo possono sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa ad una norma contenuta di una legge che è necessaria per il giudizio in corso nell'ambito del procedimento giudiziario quindi per esempio se c'è una parte che ritiene che sia stata rinviata il giudizio in base ad una norma che è incostituzionale chiede in prima via in prima battuta un giudizio di legittimità costituzionale generale alla corte del suo processo se questa non lo ritiene palesemente infondato quindi per esempio pretestuoso è una cosa che viene tirata su solo per perdere tempo ed è palesemente fondata su nulla questa richiesta di giudizio di costituzionalità la respinge ma se ritiene che la richiesta abbia anche minimi motivi di fondamento si blocca il processo tutto l'incartamento per così dire viene mandato alla corte costituzionale che eseminerà la legge in questione per giudicare se è costituzionale oppure no e chiaramente a quel punto questo avrà degli effetti immediati sul processo e sulla legislazione in generale poi abbiamo detto i reti presidenziali le altre attribuzioni le abbiamo dette e non mi ripeto ultima cosa importante la corte agisce per il tramite di una sentenza quindi è come un giudice i giudici parlano attraverso le sentenze e le sentenze della corte costituzionale possono essere di vario tipo io qua ve ne ho segnate sei tipologie vediamo quali sono la prima le sentenze di rigetto quando non viene accolta la richiesta di legittimità costituzionale quindi si conferma la costituzionalità della legge fra virgolette contestata all'opposto se si dichiara la ricostituzionalità della legge c'è un accoglimento della richiesta del ricorrente e quindi si parla in questo caso di sentenza di accoglimento queste sono le due vie principali accoglimento o rigetto ma ci sono altre possibilità che danno vita a delle sentenze particolari che sono le sentenze interpretative quando si dà oltre che la sentenza si dà una interpretazione che rende legittima la norma contestata quindi si dice la norma di cui si sollevava la legittimità costituzionale è costituzionalmente legittima a patto che la si interpreti e la si applichi in questa maniera e allora si parlerà di sentenza interpretativa mentre ci può essere un altro caso in cui la norma contenuta in una legge per una parte viene ritenuta legittima costituzionalmente per un'altra parte no e allora si parla di sentenze di accoglimento parziale perché appunto solo una parte della norma è stata dichiarata illegittima poi abbiamo le sentenze additive dove l'additivo che cos'è? qualcosa che si addizione che si aggiunge quindi si stabilisce la legittimità solo con un'integrazione che viene suggerita da parte della legge che deve essere fatta proprio dal legislatore quindi la norma è legittima a condizione che ci aggiungete questa parte qui che vi suggerisco io oppure ci possono essere infine le sentenze di monito quindi oltre l'incostituzionalità la corte non si limita a dire è giusta o è sbagliata ma dice nel caso in cui ritiene che sia sbagliata dare dedicazione al legislatore su come deve procedere per fare una nuova legge che vada che vada a sostituire che come dire non che sostituisca che prenda il posto della norma che è stata annullata dalla corte costituzionale perché era stata dichiarata illegittima qui siamo arrivati alla fine quindi adesso vi metterò il link che caricherò su youtube per vedervi questa piccola video lezione poi vi metterò il powerpoint e poi venerdì prossimo con le modalità che vi ho spiegato a suo tempo faremo un test a crocette molto semplice che andrà sicuramente bene vi saluto e alla prossima